cari sorelle cari fratelli e saudiamo anche tutti quelli che stanno fuori che ci seguono come dire un po dal video sarò necessariamente breve anche perché dovete stare in piedi e come si direbbe non voglio che vi vengono le vene varicose o lei ecco per domino però davvero una gioia quando ci fa bene ci aiuta un po come quando uno sta qui respira un po di più no e tante volte veniamo proprio in montagna anche perché si aprono un po i polmoni per respirare bene e ci abbiamo tanto bisogno di un luogo come questo per respirare meglio perché il cuore riprenda il suo ritmo normale e anche per vedere quello che vediamo qui però ce lo portiamo nella vita di tutti i giorni quell'immagine di quei due come ricordato Don Isidoro i due pastorelli hanno visto nel momento di grande difficoltà quella presenza di Maria nella loro vita e qui la vediamo la contempliamo l'immagine come sempre così ben attornata la contempliamo anche in quest'altra immagine della chiesa che è sempre Maria di questa madre che oggi vediamo così piena di fratelli e di sorelle quanto ci fa bene quanto ci dà gioia sentirci parte di questa famiglia qui sentirci parte di questa chiesa di questo popolo di uomini e donne che seguono il Signore che mettono in pratica il comandamento del Signore che vivono la fraternità che il Signore ci ha affidato gli uni verso gli altri e per centiversi verso tutti ci fa bene e ci aiuta a vedere anche nella vita di tutti i giorni la stessa presenza materna, misericordiosa, vicina sempre lo capiamo ancora di più nelle difficoltà peraltro mi ricordava prima Don Giacomo che oggi è anche il primo venerdì del mese e quindi ci infiliamo anche quel cuore che continua ad amare gli uomini e ad amare ognuno di noi e anche quel cuore che dobbiamo riparare per le tante ferite che i uomini con la loro complicità con il male le tante ferite che causano del cuore del Signore Gesù, del cuore di Maria e del cuore della chiesa. L'altra cosa che volevo dire era sulla bufera perché i due pastorelli si divararono sotto l'acero perché c'era una bufera e poi come ha ricordato Isidoro uno cominciò a parlare di bufera e fratelli e sorelle ne abbiamo tante e vengono inaspettate improvvise a volte incredibili come una bufera di neve il 5 agosto oggi sapete anche appunto che Santa Maria della Neve che è legata alla tradizione della Basilica Liberiana che è Santa Maria Magione ma quante tempeste che arrivano ne ricordo soltanto due una che per certi versi ci sconcerta ci mette tanta paura e penso le tempeste causate dagli uomini, dall'impazzimento degli uomini, dalla cattività degli uomini, penso alla tempesta del terrorismo, chi di voi non ha visto con orrore e anche con una partecipazione profondissima delle immagini, non so, di Nizza? Pensando in fondo di quella polla ci potremmo essere ognuno di noi? Chi non ha pensato con orrore a quel padre Jacques, sant'uomo che celebrava 86 anni con tanta fede la messa di una cittadina della Francia? L'altro giorno guardando gli occhi dei sopravvissuti, dei parenti delle vittime della strage della stazione, quanta sofferenza, quante tempeste che mettono paura, che a volte paralizzano, di cui facciamo fatica a trovare un rifugio vero, una sicurezza vera e poi quando abbiamo paura tutto ci diventa nemico, la paura ci disorienta, per cui istintivamente ci chiudiamo e però non è chiudendosi che troviamo la risposta, anzi molte volte chiudendosi la paura aumenta e tutto diventa minaccioso. Poi c'è un'altra terpesta, ne ricordo soltanto un'altra, che qualche volta ci ha colpito, mi ha configurato in questi giorni, ho scritto stamattina proprio ai genitori quel bambino che avevo visto, di undici anni, di giovanni, malato in leucemia, che è morto l'altro ieri a Sant'Orsula, l'avevo incontrato poco tempo fa perché ero stato a inaugurare la cappella bellissima, proprio lì a Sant'Orsula, la nuova cappella a Sant'Orsula, una terpesta incredibile, per Giovanni, bambino adulto in realtà, cresciuto tanto, che ho pensato era davvero tanto grande, nonostante che aveva soltanto undici anni, perché aveva tanto sperimentato la lotta per la vita, ed era tutta una profondità particolare, la tempesta che si è fatta sui genitori, e pensiamo quindi a quante tempeste, e poi lo sappiamo per la nostra vita, la debolezza, la fragilità, per i nostri cari, per le persone che non ci sono più, oggi qui, tutti voi, credo, per me è la prima volta, per molti di voi, che è l'ennesima volta che uno magari si ricorda che qua ci veniva con papà, ci veniva con mamma, ci veniva con mio marito, e qui lo ritroviamo anche, capiamo anche quello che non finisce, l'amore che ci protegge da queste tempeste, questa presenza di Maria, che ci porta a Gesù, la terza cosa è la sua lingua, e perché mica soltanto quel pastorello è sorto, mica soltanto quel pastorello sapeva parlare, e io penso che anche un po' tutti noi, abbiamo troppo poche parole di speranza, sappiamo troppo poco parlare ancora la lingua dell'amore, e quando ci scontriamo con la tempesta del mare, con la tempesta della cattiveria, e spesso anche noi cominciamo a parlare quella lingua che in realtà ci rende sordi e muti, che è la lingua dell'odio, che è la lingua della vendetta, che è la lingua del farla pagare, e io credo che dobbiamo tornare anche noi con una lingua del perdono, con la lingua dell'amore, e dice ma com'è possibile nella tempesta, quando ci sta il mare, quando il mondo è sempre tutto cattivo, quando gli altri rivelano la cattiveria, perché non è che non c'è, c'è e come, e quando l'uomo ti rivela come un lupo per gli altri uomini, come faccio io a parlare, ad avere parole di amore, e questo è un incontro con Maria, e questo è il miracolo di Maria, e che ci aiuta a trovare quelle parole che altrimenti non avremo, parole di perdono e di amore, quelle che ieri Papa Francesco ha chiesto per tutti, perché c'è un enorme bisogno di perdono, di misericordia, che passa anche per noi, perché anche noi siamo protagonisti nella misericordia, cioè la misericordia del Signore l'affida a noi, io posso essere un uomo di misericordia, e posso fabbricare, creare la misericordia verso gli altri, e devo imparare la lingua del perdono e dell'amore. L'ultima cosa, se no appunto vengo le vene varie cose, abbiamo ascoltato lì, Maria che guarda che non c'è più vino, la Chiesa ci aiuta a preoccuparci non di quello che manca a noi, ma di quello che manca agli altri, noi spesso stiamo sempre a pensare a quello che manca a me, e spesso non ci manca niente, ma pensiamo sempre che ci manca qualcosa, perché molte volte è così, perché quando viviamo per noi stessi non ci accontentiamo mai, è curioso, abbiamo tanto, abbiamo tantissimo, non c'è storia, i nostri genitori, i nostri nonni, se lo sognavano quello che abbiamo noi, ci manca sempre qualcosa, dobbiamo sempre avere qualcosa in più, Maria non fa così, Maria guarda quello che manca agli altri, e Maria ci aiuta a vivere bene, proprio perché ci aiuta a capire quello che manca agli altri e a preoccuparsi di quello che manca agli altri, perché quando ci preoccupiamo di quello che manca agli altri, lo abbiamo tutti, è così, quando ci preoccupiamo soltanto di quello che manca a me, e non saremo mai contenti, e non siamo mai contenti, alla fine non ci interessa più di quello che abbiamo vicino, e manca a tutti, un giorno a Canna di Galilea, tutti sperimentarono il vino più buono, quando l'ho ascoltato mi sono ricordato di una, io per molti anni sono stato a Trastevere, a Trastevere diciamo così, si dice che il cuore di Roma in realtà è lo stomaco di Roma, nel senso che si beve e si mangia sostanzialmente, è un po' che è cambiato l'orlo nel frattempo, la cuore è diventata lo stomaco, e allora c'era una volta, mi cambiò di andare quando facevo le predizioni, andai a prendere un Vinioli, ma tantissimi anni fa, 30 anni fa, adesso è diventata una fileria tutta sfiziosa, all'epoca erano proprio Vinioli dei Trasteverini, quelli proprio, erano le cinque poche di giorno, e c'erano una decina di uomini già tutti primi, e allora il gestore mi disse guarda questo, questi possibivano pure la benzina, adesso non si capisce anche negli romanesti, si bevano di tutto, perché è stato appunto ormai, con quell'anno già fatto il pieno, si bevano qualunque cosa, che è lo stupore del maestro di Tavola che dice ma come, tu dai il vino più buono quando in genere si dà all'inizio, in realtà il lavoro diventa sempre la cosa più buona, ma quando seguiamo come Maria che ci dice fate quello che lui vi dirà, facciamo quello che il Signore ci dice, mettiamo in pratica la sua parola, mettiamo in pratica la sua parola che ci sconcerta il perdono con tutto quello che succede, parlare ancora di amore per gli altri, di misericordia quando il mondo si rivela così minaccioso, ancora di più, facciamo quello che il Signore ci dirà, e la gioia non finisce, e troveremo dandolo il vino più buono per tutti, questo è l'insegnamento di Maria, allora torniamo come quei pastorelli, con una lingua finalmente parlando di più, la lingua dell'amore, la lingua del perdono, e Maria ci accompagni, ci protegga, cittadini di avere a cuore ciò che manca agli altri, e di fare quello che lui ci dirà, anche all'inizio non lo capiremo, che serve ad abbiall'acqua, ma se facciamo quello che lui ci dirà, daremo gioia, troveremo la gioia che non finisce, e grazie.